Abbiamo apprezzato le parole del segretario del Partito Democratico, Martina, poche ore fa. Sono parole che vanno nella direzione di un'apertura. Abbiamo detto al Presidente Roberto Figo, che ce l'ha chiesto, che noi manteniamo la linea che è quella che portiamo avanti dal giorno dopo le elezioni. Noi ci siamo sui temi per firmare un contratto di governo per il cambiamento di questo Paese e non rinunciamo ai nostri valori e alle nostre battaglie storiche.